Ciao a tutti da Mantecnologi, oggi torniamo a parlare di video sorveglianza e lo facciamo con questo prodotto Avizen OnCam 360, ovvero una telecamera smart. Prima però di iniziare con il video di oggi, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il codice MYTECH10AVI che vi permette di avere un 10% di sconto su tutti i prodotti presenti sullo store di Avizen, ad eccezione di quelli già oggetto di eventuale promozione. Quindi, come nel caso della nostra OnCam 360 che ha un costo di 49,90, con un 10% di sconto andrete a risparmiare circa 5 euro. Quindi sicuramente interessante, qui sotto trovate il codice sconto. Lei è appunto la protagonista di oggi, ovvero OnCam 360. In confezione troviamo un cavo con attacco micro USB abbastanza lungo, facciamo che in sovraimpressione vi metta la lunghezza effettiva e poi troviamo ovviamente altri accessori, tra cui sacchettino con viti e tasselli per il fissaggio a parete e questa piastrina in plastica con un adesivo 3M preapplicato che sostanzialmente si va a incastrare nella parte sottostante e quindi questa cosa mi permette di avere un fissaggio a parete sia tramite l'adesivo oppure, se lo vogliamo, più solido ricorrendo sempre a viti e tassello essendo preforata la piastra. In confezione poi troviamo anche l'alimentatore. Ci tengo a mostrarvelo perché è un aspetto secondo me abbastanza importante specialmente in quelle installazioni dove magari abbiamo degli spazi abbastanza ristretti e come vedete è veramente estremamente compatto e ha un output di 5V per 1000 mA. La protagonista però è lei, che come dice il nome registra a 360 gradi, 355 se vogliamo essere pignoli e questo grazie appunto all'app che ci permette di ruotarla sia sull'asse orizzontale come vedete in questo caso io tramite l'app sto modificando la visuale oppure sull'asse verticale, vedete l'occhio che sostanzialmente si muove in su e in giù. Ha un design particolare, non è la classica telecamera a goccia o squadrata e a livello di specifiche è abbastanza completa. Registra a 1080p ovvero in full HD, è smart e quindi è compatibile con i vari assistenti vocali quali Google e Alexa e vedremo l'integrazione con Echo Show 5 di Amazon e c'è poi la possibilità di andare ad installare una microSD per salvare foto e video ed infine dispone di una funzione che ormai la ritengo quasi indispensabile oggi ovvero l'audio a due vie, tramite il microfono integrato e lo speaker posto qui sul retro potremo infatti non soltanto andare ad ascoltare l'ambiente dove è posta ma anche interagire con l'ambiente e con le persone presenti nell'ambiente stesso quindi questa cosa ci permette non soltanto di utilizzarla per la videosorveglianza ma anche ad esempio per funzionalità quali Babyin Monitor o altro ancora. Uno degli aspetti più interessanti della Uncan 360 è sicuramente la sua possibile integrazione con altri prodotti di Avizen, come vedremo a breve infatti l'app è progettata non solo per le telecamere ma un po' per tutti i prodotti smart di Avizen e questo mi permette di configurare alcune automazioni vi faccio un esempio, è il classico esempio abbinato con le lampadine smart che forse è il prodotto smart più diffuso quando la telecamera rileva un movimento può dire a lampadina di accendersi e questo può tornare utile in due modi il primo è quello magari di allertare un eventuale malintenzionato e magari farlo allontanare il secondo invece se io sto tornando a casa e magari sono pieno di borse in mano la telecamera mi vede e mi accende automatico la lampadina magari posta sulle scale sono alcune ipotesi con la quale potete sfruttare appunto queste automazioni ora però direi di lasciare spazio all'app per capire appunto come lavora ok questa è l'interfaccia di benvenuto di Avizen Home ci tengo subito a evidenziare il fatto che non si tratta di un'app dedicata esclusivamente alla videosorveglianza infatti se andate sul più presente in alto a destra qui vediamo subito i tipi di dispositivi che possiamo andare a aggiungere quindi abbiamo le lampadine, abbiamo le prese, abbiamo ovviamente le telecamere ma poi abbiamo anche magari sensori porta finestre o altri sensori e tutti questi prodotti possono essere aggiunti in modo tale da creare poi delle automazioni in modo tale da farli interagire qui vediamo che la telecamera è inserita, si chiama studio quindi selezionandola posso entrare all'interno di quello che è il flusso video qua vediamo che ci sono dei pulsanti sopra il flusso video il primo è quello dello speaker che mi permette di ascoltare l'audio presente nell'ambiente e dopo avrete anche delle clip dei test sia video che audio da poter vedere c'è il pulsante che mi permette di switchare tra qualità standard e qualità HD ora qua magari non si nota molto la differenza però a seconda delle condizioni di luce c'è un minimo di differenza e poi c'è il pulsante che mi permette di andare a tutto schermo e poi ritornare sopra invece vedete il segnale 89% mi permette di capire a colpo d'occhio se riceve bene il segnale wifi o se magari invece devo fare qualcosa per andare a migliorare e a sinistra in alto sempre sul flusso immagine vedete che c'è riportata la data e l'ora sotto abbiamo dei pulsanti questa parte mi è piaciuta molto nel senso che i pulsanti sono ben chiari, facili da utilizzare c'è soltanto una cosa che io andrei a migliorare ovvero il fatto che io inizialmente facevo le foto facevo le registrazioni ma poi non capivo dove dovevo andare per vedere questi contenuti che facevo e questo perché c'è uno scroll da fare per accedere al fotoalbum e quindi dato che comunque questi pulsanti sono belli e sono chiari ma sono enormi bastava semplicemente andare a compattarli leggermente per comunque inserire e farci stare anche il fotoalbum all'interno appunto di magari della prima schermata in alto invece i pulsanti li vedremo tra poco in alto a destra vedete c'è quella sorta di matite che mi permette di andare nelle impostazioni da qui posso rinominare la telecamera, posso condividerla con altre persone c'è la pagina dedicata all'info dispositivo che non mi mostro c'è questa pagina invece che si chiama utilizzare ICO che ho trovato molto bella perché sebbene sia abbastanza facile andare a fare l'abbinamento con Alexa sostanzialmente è la classica procedura si apre Alexa, si aggiunge la skill di Avicen Home e si fa l'abbinamento semplicemente loggando l'account però magari per chi non è pratico di queste cose vedere gli step messi giù passo passo in una pagina dedicata è sicuramente molto utile c'è poi il set di funzionalità di base e qua io posso decidere di disattivare dei led oppure capovolgere lo schermo qualora magari vado ad appendere la telecamera testa in giù e poi c'è la possibilità di attivare o meno la filigrana e poi c'è la funzione dedicata agli infrarossi ovvero io da qua posso decidere se mantenerli in automatico oppure accesi o spenti a seconda di come decido di utilizzarlo poi c'è l'impostazione di rilevamento dei decibel perché io posso dire alla telecamera qualora senti un audio senti che c'è del rumore mandami un alert e qui posso decidere il livello di sensibilità stessa cosa posso fare con le impostazioni di rilevamento del movimento vado un attimo ad attivarlo per farvi vedere com'è comunque questo sostanzialmente funziona allo stesso modo infatti vedete che adesso l'ho disattivato perché altrimenti sarebbe un alert continuo dato che mi sto muovendo esattamente di fronte a lei però sostanzialmente nel momento in cui lei rileva il movimento mi manda un alert una cosa però importante una funzione che le manca è la capacità di seguire il soggetto dato che comunque è una telecamera che si muove a 360 gradi alcune telecamere hanno appunto la possibilità di seguire il soggetto qua invece no semplicemente rileva il movimento mi manda l'alert poi sono io che devo entrare e eventualmente monitorare il soggetto inquadrato poi abbiamo le impostazioni della scheda di memoria eravamo qui sì ok impostazione scheda di memoria e qua posso vedere alcuni dettagli della microSD che ho inserito la mia è una 64 giga ops vediamo andiamo a disattivare il rilevamento di movimento dicevo ho una 64 giga inserita ho la possibilità e questa secondo me è molto importante di registrare soltanto gli eventi che diciamo rileva oppure di creare una registrazione continua quindi in questo modo io posso andare a vedere sostanzialmente tutto quello che ha registrato però ovviamente questo tipo di utilizzo utilizza molto la scheda di memoria e poi ovviamente ho la possibilità di formattare la scheda poi vabbè ci sono i fa che ci sono le informazioni del firmware andiamo ora a vedere come vengono gestiti magari i pulsanti quindi vediamo che c'è la possibilità di scattare una fotografia c'è la possibilità di parlare questa cosa è molto comoda perché basta premerla e poi si continua a parlare non bisogna tenere premuto alcune volte si vedono delle integrazioni un po' macchinose qua semplicemente si preme e si parla c'è poi la possibilità di registrare il video e molto importante se volete l'audio ambientale lo dirò poi anche a fine video per ricordarlo però se volete l'audio ambientale dovete attivare anche lo speaker quello posto qui vedete qua che cambia l'icona attivate questo per poter registrare anche l'audio altrimenti avrete una registrazione solo video e poi abbiamo riproduzione questo mi permette di andare sulla timeline e vedere sostanzialmente quelli che sono gli alert dati appunto in automatico e scusate da qua posso accedere anche a un calendario sostanzialmente vedere di cambiare il giorno e poi vedere quelli che e registrare quello che è il contenuto quindi se io ho un contenuto che voglio memorizzare sul telefono a questo punto io sto registrando una registrazione magari è una cosa un pochino macchinosa però è comunque una funzione che può tornare utile per poi trovarla appunto come vedete sulla galleria del telefono e poi ho la possibilità ve lo faccio vedere all'inizio del video di muovermi con l'occhio sostanzialmente sia sull'asse orizzontale sia sull'asse verticale e poi c'è la funzione di allarme che sostanzialmente va ad attivare la rilevazione di movimento sostanzialmente abbiamo detto tutto questo ve l'avevo già fatto intravedere ovvero la possibilità di vedere quelle che sono le foto e i video salvati una cosa invece secondo me importante è quando la telecamera manda gli alert sia di movimento sia di rilevamento audio questa cosa la posso vedere tornando fuori uscendo andando in qui sostanzialmente nel menu mi centro messaggi e qui vedete che c'è la telecamera e a questo punto ho tutti gli alert ok? alert che però non mi mandano a vedere il contenuto registrato ma semplicemente mi mandano mi permettono beh a parte magari darmi un'anteprima immagine quello sicuramente però sostanzialmente cliccando mi mandano poi a vedere la telecamera in diretta sostanzialmente io direi che più o meno credo di aver detto tutto quindi passiamo ai test video e test audio ok test video in HD ambiente luminoso perché ora è giorno nel frattempo sto parlando direttamente alla telecamera quindi ascoltate anche la mia voce per cercare di capire come capta l'audio ora mi sposto sto cercando di parlare più o meno scherzo con lo stesso tonno all'interno di un ambiente di dimensioni per capire se la telecamera riesce a captare la mia voce se mi dicono mi sposto ora passiamo a vedere il pochino di lato e ho passato leggermente il tonno di voce e cerchiamo di capire se l'audio legalizza questo invece è un test video sempre medesimo in condizione ma con gli infrarossi attivi per cercare di capire anche in condizioni di luce come lavorano gli infrarossi perché alcune volte può comunque tornare utile mantenere gli attivi e questo invece è il test video in qualità standard quindi sempre medesimo in condizioni ma qualità inferiore mi aspetto magari una maggior granulosità specialmente ora che sono qui davanti a voi vediamo ora l'integrazione con l'eco show 5 di Alexa quindi tramite comando vocale Alexa mostra studio vediamo quindi di focalizzarci anche sul delay col quale mostra l'immagine e vediamo che ci mette comunque qualche secondo cosa che però è fisiologica un po' per tutti i sistemi che passano tramite Alexa ok eccoci qua e praticamente la stessa cosa io la posso fare tramite i pulsanti cioè andando in casa intelligente qua me la propone di già perché è una delle cose che guardo maggiormente le telecamere quindi io seleziono la telecamera e lei automaticamente mi va a ripescare il flusso video concludendo per questa Oncan 360 sicuramente un prodotto che funziona bene come abbiamo visto dai test video ha una buona definizione sia in diurna sia in notturna con gli infrarossi attivi ma si tratta di un prodotto che deve far fronte ad una concorrenza che negli anni è diventata guerretissima e che sta sempre più abbassando il costo di accesso a questi dispositivi la velocità di accesso al flusso video dell'app è buona in ritardo di circa un paio di secondi ma nel complesso l'esperienza di utilizzo è positiva e come abbiamo visto invece passando tramite prodotti come EcoShow ci mette qualche secondo in più ma diciamo che questo aspetto è abbastanza fisiologico un po' tutti i sistemi sono più lenti passando tramite Alexa va detto che non dispone dell'opzione cloud ovvero la possibilità di salvare gli alert sui server gestiti di Avizen e questa è forse l'unica vera mancanza di questo prodotto se messo in comparazione con la concorrenza però è anche vero che il cloud non sempre serve a tutti e molto spesso risulta essere un'opzione abbastanza onerosa abbiamo visto più volte in questi ultimi anni diversi sistemi e quando si va a parlare di cloud i costi sono veramente importanti inoltre bisogna ricordarsi quando si va a fare una registrazione video se vogliamo avere anche l'audio dobbiamo attivare l'icona dello speaker perché altrimenti se non facciamo queste cose andremo a registrare soltanto video senza audio quindi questo è sicuramente importante da tenere in mente il suo punto forte è sicuramente l'integrazione nativa con gli altri prodotti di Avizen come abbiamo dato all'inizio video per cui se puntate su questo aspetto può essere sicuramente un elemento che gioco a suo favore è vero che oggi con tutte le integrazioni che è possibile fare tramite assistenti vocali tramite app come IFTTT si potrebbe arrivare ad ottenere risultati simili anche mescolando prodotti di brand diversi però fare tutto restando all'interno di un'unica app di un unico sistema è indubbiamente più immediato e più facile rispetto al dover mettere mano su più sistemi io direi che più o meno vi ho detto tutto per questa Uncan360 quindi se vi è piaciuta la recensione mettete like, condividete questo video ma soprattutto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che vado a pubblicare un nuovo video noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti